faremo duo con terrenas eccoci eccoci qua ma buonasera buongiorno buon pomeriggio come stai molto bene tu bene 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 un po in ansietta per questo viaggio mi ha invitato terrenas ah ti ha invitato perfetto ma come c'è un gap troppo grande daemon d'uno daemon d'uno e ma perché mi sa che questo account era ex challenger sai di mmr e quindi e quindi eh sì perché se questo account non c'è giocato più in challenger e questo è un problema ok e possiamo giocare flex se vuoi ti posso commentare anche che mi diverte molto a me vuoi ti stremo su discord vai a me va benissimo mamma mia no no l'ho fatto con dei d'arro lo sai che ha vinto tante partite dopo e chi bandiamo top lane chi counter tanto orno ok attualmente atrox mi saranno un sacco i problemi perché la gente giocandolo tanto l'ha imparato bene e quindi è molto complicato a gestire poi è anche un priority pick no attualmente in top lane si è però orne so che ha tantissimo che il potential per essere un tank riesce spesso a fare uno v uno quando è messo bene sì sì orne è infatti uno dei pochi tank in top lane che funziona a modo anche mao kai adesso non è male bravo si lo vedo spammatissimo poi orne contro il potenzial fino al 6 io dopo il 6 non ho il potenzial su di lui se lui lui non riesce mai a uccidermi nemmeno che non faccio grossi errori meccanici quindi è un farmaccia si è praticamente te lo giochi così te lo giochi con rune attack speed e doppia armor in questo modo in early game puoi lastrittare meglio i minion e fare i trade più veloci ci sta ci sta non non giochi bone plating perché tanto i trade di garen o sono velocissimi o sono prolungati quindi non non ne vale la pena prenderlo se vai di second wind vuol dire che vuoi giocare molto passivo di solito quello che tendo a fare è conditioning in cui so che l'early game tanto lo non giochiamo e mi sento super vivo guarda mr in più per la fase avanzata io sono un tuo grande fan l'apo su questo bel conditioning soprattutto lo preferisco che allunga le alterune e bone plating fa schifo però invece sui trade prolungati penso che sia buono no il bone plating cioè se lui fa la tratta dovresti proccare tutte e tre le stack o no? sì ma il punto è che lui non finisce il trade là cioè lui continua a inseguirti e quindi ok togli le tre stack di bone plating e poi per un minuto può trattarti comunque gratis e quindi dico cioè piuttosto devo evitare che questi trade avvengano di base se lui li forza ok è lui che forza un trade va bene ma cioè il bone plating piuttosto lo prenderei contro campioni che hanno proprio delle combo che possono essere problematiche oppure delle spell che hanno tre porzioni che sono facilmente debloccabili livello 1 vediamo come interagisce lui con la wave decidiamo di conseguenza ma nella maggior parte dei casi lui tende a esatto lui vuole forzare un trade a questo modo mimignano hanno preso il focus su di lui grasp e via co difensiva preferisci la e o la w al tuo? la w ok la e è buona se so che non sto per essere schiacciato sotto torre qui sta provocando la passiva non cerchi di roma ok perfetto sì 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 è soltanto che è che non voglio utilizzare spell sulla wave perché sennò rischio di rallentare il push nella mia direzione potrei perdere più minion se mi zona correttamente bel freeze anche qui perfetto qui possiamo fare le colle tp no? sì 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 è con le tp perché lui non riesce a pushare abbastanza in fretta la wave fino in fondo però non lo fa comunque ok adesso invece qual è il game plan continua a farmare con il se proviamo a rombare mid lane quali sono diciamo i tuoi programmi considerato che il trade power contro lui non ce l'ho l'idea adesso è pushare fino in fondo la wave in modo che poi posso provare a cancare mid anche se non so se ci stavano da partì a suo meno che non ci sta magari adesso con un knock up e a su prende questa kill oh nice va bene va bene ma non è uguale dovrebbe farcela non prendere noi abbiamo fatto quello che dovevo fare si è morto qui qual è il piano pushiamo regoliamo prendiamo una placca perché ho visto anche che dei spot quindi magari vuoi ridere un po magari autoattacchiamo prendiamo una placca regoliamo tutto torre oppure vuoi ridare di più perché magari due placche ci può stare qui con un'altra wave no non l'hai nemmeno preso in considerazione no 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 c'è il tp e non vediamo ok esatto non prendiamo la priorità qui prima di andare ad aiutare preferiamo subito aiutare ci sta e chiedo sempre allora secondo me quando si è ritirato nel momento che ha fatto quell'ultimo push è perché o voleva prendere un altro spike o perché sapeva che non era topside e quindi quando si è riposizionato indietro vedi non ha neanche contestato la wave ma ci sta regolando col carretto eccolo eccolo ha regolato col carretto e si è preso questo comunque c'è attenzione alla miden lui pusha top lane qua c'è la paura che secondo me non si fa molto perché tanto considera schiantare e perdiamo tanto in in topside buono questo pic però molto bene porco giuda bell dive bravo ricolla pure ftp guarda top eh però qua hai fatto sicuramente molto più di quanto ha fatto lui veramente ottima giurata bravissimo cerchiamo di ricollocarci sulla mappa no perché stiamo un po' girando a caso questa wave la poteva prendere magari caitlin si non hai fatto avvicinarmi di più questo diciamo la fase del game è anche un po' più difficile perché ci dobbiamo adattare a quello che fanno i compagni di squadra prima era una isola adesso invece stiamo giocando con tutti kabi ancora no guarda mi sorprende anche perché contro garen grace vain penso che avessi avuto un bel value è che con il frozen art vai a rendere più difficoltoso a graves l'animazione del resto dell'auto attacco con auto attacco e auto attacco garen fa meno danni con lo spin perché scala con la velocità attacco che hai e vain il value che hai sui tabby contro vain secondo me non è così alto cioè il grosso del danno che ha contro di me è il danno puro e quindi ridurre l'attack speed va a ridurre tra virgolette il danno puro sicuramente il frozen è più forte però possiamo dire che i tabby li facciamo prima no è molto più efficace buildarli proprio li facciamo subito e poi magari pensiamo adesso però qui dobbiamo stare attenti perché ci possono pari del game prima che noi siamo in ok questo vediamo se non un engage ah garen è morto in apertura di fight Yasuo cercherebbe se possiamo scappare come possiamo scappare magari uno lo killiamo ok purtroppo se noi ingaggiamo noi è più complicato Yasuo deve voltare dobbiamo ingaggiare prima e loro erano un po' troppo deep comunque il game quasi perfetto King eh qualche rotazione mancata possiamo ingaggiare un attimo prima quando questi cani magari però al momento veramente un game ci può dire niente qui dobbiamo fare il bello e il cattivo tempo eh no no non ti preoccupare non ti preoccupare focusiamoci sul fight perché questo si può vincere guarda quello stun su Morgana niente è una ribucata hai visto? manteniamo la calma perché queste sono quelle situazioni proprio qui bex va zonata garen ci può dare fastidio questa è una col molto discutibile molto bene però sei solo eh quella ti counter si 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 no lo so lo so preferisco preferisco zonata no 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 ormai continuo c'è pure Katyn c'è la mazzi di Q forza eh vedi il mio terrore va bene non ti preoccupare cerchiamo di capire qual è il nostro ruolo all'interno di questo fight dobbiamo andarcene dobbiamo andarcene dobbiamo andarcene sul Cepre ora ne muovo un altro sono vive Vayne, Morgana io non lo chiamerei beh qua la shelter forza non potrebbe averti premiato eh perché è tencato davvero tanto sai che una cosa che sto usando sempre più spesso sono i luciditi mmm ok è molto rischi ma mi da molti più knock up molte più supreme molte più occasioni per ingaggiare vai perché no ci serve veramente quel pezzettino di MR che ci tiene in vita anche quello bravo lui guarda che non è in una una buona posizione non ho capito questo Kalen è indeciso tra vai vai occhio al silence purtroppo siamo vicini però brutto 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 ma attenzione al teammates ok quelle gare secondo v3 vabbè ok si e intanto il resto del team non è riuscito a proteggere no muore? no no qua cosa non è andato secondo te? non dovevamo forzare su Vex semplicemente potremmo tenerci la ulti per un altro momento magari mamma mia stai intando no no ha preso una kill ma non è il massimo è un uno per uno e hanno preso la torre ci sta ma questo è pericoloso hai deciso quale coreana adescare sue palle? ogni volta che Yasu è con voi vince del fight si quindi cerchiamo di far capire a questo Yasu che è un po' più importante questo non potevamo purtroppo no questo non potevamo decisamente no no non dovevamo andare avanti mi sembra un po' che sia scivolata fuori dalle nostre mani questo game mentre abbiamo sicuramente il controllo è importante semplicemente far capire a questo Yasu che abbiamo bisogno di lui io scriverei in chat in queste situazioni quando porto alcune persone che non capiscono il loro ruolo Yasu if we group we can fight and we win every teamfight motiviamo un po' diciamo che cosa fare e magari cerchiamo di convincere questo personaggio a giocare assieme ok siete finalmente tutti gruppati c'è il drago pinghiamo il drago andiamo a contestarlo insieme ingaggiamo anche semplicemente Garen così peccato per poco peccato buona idea qui sei bullo eh qui siamo bulli su Morgana se è possibile perché Garen non muore facilmente e su quello sbagliato eh Vain sta focussando a me però non riusciamo a uccidere Garen vediamo 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 come va a finire eh non hai detto che abbia le perso ancora eh Vain è troppo in vantaggio è troppo in vantaggio Vain eh lo sai che era molto close cosa non è andato questo teamfight? eh io sono stato immobilizzato per 5 secondi i CC sono finiti anche su di me e comunque non bastava eh avevo un po' il timore che senza Mercury sarebbe finita così lo carri tu questo game king lo carri tu come? stappando un ingaggio fatto come Dio comanda con Yasuo che ti sta dietro abbiamo bisogno di di questo niente di più Yasuo deve venire mid lane pinghiamolo e sta split pushando non ha senso ci sta perdendo il game assist me mid Yasuo come mid ci ingaggiano moriamo come i coglioni eh possiamo comunque vincere perchè calma purtroppo eh questo è game forse cosa è game si? vi gioca tu eh ma se mi so gioca 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 guarda che è in base per le home guards comunque fa niente quella ti canta orca droia eh no siamo arrivati in late vabbè lo vogliamo rivedere questo game secondo me era vincibile sai abbiamo tornato qualcosina ma qui eravamo un po' incerti no? e mi hai detto non so ricollare sì 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 eh più che altro qua sai cosa ah pausa 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 aspetta aspetta qui qui pausa qui secondo me non abbiamo nemmeno dubbio più che altro perché qua avevamo Vex che apriò su Yasuo sì ma non è un aprioreale guarda la minion wave beh comunque sì è finita la minion wave è finita la minion wave lui fra un secondo segue esattamente come Vex guarda cosa fa Grace e guarda dove eri tu e poi sei tornato indietro ma qui Grace non sta intando di più cioè qui Grace doveva morire sei volte addirittura una vita Graves contro una metà HP eh sì perché allora diciamo che Grace c'è il flash quindi non è banale killarlo però guarda Garen vediamo come succede come si svolge Garen vuole seguire Garen qua non segue tu lo sai che non serve perché è quella ward sì quindi pausa pausa quando hai scelto di cioè qui è 3v2 punto è 3v2 e lui sta facendo il bullo del cazzo nella tua giunga non lo può fare qua è doppio vuoto attacco su Grace E sul muro Yasuo fa E Yasuo ha il flashing knight Grace muore sempre qua viene chiamato l'herald qua io ad esempio prenderei sempre la priorità in in top lane perché sappiamo che lui che che ha regolato Garen lo aiuti ma lo aiuti poco perdi qualche minion e lui magari ne poteva perdere qualcuno in più pushando non è una cosa grave giusto per dire che la priorità la do sempre al push della wave si dirige verso botte pausa 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 qui cambia idea di nuovo guarda la wave che sta per arrivare qual è? il carretto il carretto ed è il carretto che non viene nemmeno ehm holdato dall'altra wave perché lui sta proxando esatto quindi si schianti direttamente in torre loro stanno già fightando tu non hai il tp e se invece di tornare indietro avessi continuato fossi continuato ad andare saresti all'altezza della world blue dei nemici forse un po' più indietro giusto? siamo d'accordo? sì 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 quindi comunque non sei se nel fight la ulti ce l'hai? ehm sì la ulti ce l'ho sì 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 loro sono in due liglia su non è pronto vain sta recollando ma questo non lo possiamo sapere potrebbe esserci vain ti direi che hai fatto bene a rimanere quindi hai preso la scelta più giusta e questa scelta è altrettanto giusta questo di mover tier bot pausa io non l'avrei fatto perché secondo me non c'è bisogno perché non c'è bisogno perché non hanno bisogno di supporto per pushare da soli e andare a farsi il drago il drago è già fatto no? per questo ti ho detto secondo me non c'è bisogno però qui tu hai colto la palla al balzo hai detto Grace è fuori posizione ma Grace aveva il flash Grace non doveva morire però qua non so se doveva andare davvero così bene ma va tutto bene fate 3 per 0 sull'autocall pausa cioè qui Grace muore col flash up da denuncia sì arrivato a ultimate bellissima Yasuo arriva flash su Morgana salve anche Yasuo prova ovviamente facendo così 3 per 0 su una call che io non avrei fatto quindi questa iniziativa è stata incredibile quindi buono qua finisce in mezzo della tragedia perché alla fine Vex si prendono anche il di ritorno molto importante e qua forse succede la vera tragedia sì perché Vex dice in teoria cassa la R e va su karma esatto quindi hai visto? pausa cioè per assurdo era la cosa sbagliata da fare dai vare in ogni caso cioè anche se gli avete spaccato il culo alla fine avete abbuscato o no? e l'obiezione noi non l'abbiamo fatto abbiamo priorizzato la torre mid lane ok? abbiamo priorizzato il dive però la cosa che a me preme qual è? semplicemente che non abbiamo preso questo cazzo di di drago e qua muore no io sono un muore ma ci rischia un po' pausa 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 quindi cioè quella torniamo indietro torniamo al dive perché è assurdo noi abbiamo divato dovremmo aver vinto però abbiamo shiftato il focus adesso nessuno è veramente in grado di fare sto drago siamo tutti i bassi di vita abbiamo vinto il fight 3x0 incredibile ma il drago non lo prendiamo allora piuttosto qual è la call? ricolliamo cioè quattro sarebbe dare call caitlin sta gridando caitlin sta gridando caitlin sta gridando nuno e karma senza caitlin gridano perché non c'è dpsk bravo bravo diciamo che sono state più scelte sbagliate su cui magari bastava che fingasse il drago drago e magari ci andavano bravo ovviamente magari non l'avrebbero fatto ok? o almeno farlo così che non ho il dubbio che se lo potevano fare l'ho fatto esatto pausa king da qui non giochi più a league of legends da qui hai proprio staccato tutto eh eh qua ho più che altro il timore di quello che stavano facendo è tutto un non sapere che cazzo fanno i compagni e non riuscire ad adattarsi cioè da questo minuto ti ho visto proprio andare a cazzo di cane in giro per la mappa è troppo importante prendere il polso di situazione e dire a questi qua oh raga dobbiamo fare questo magari non è la cosa più giusta del mondo qua prendiamo la kill su Garen buono muore qua c'è una goal da fare mi esagero nessuno lo chiama è incredibile questo fatto è appena morto Garen e hanno loro il controllo del river io mi innervosisco loro startano l'herald bro ma di che stiamo parlando convex bot con l'ignite pausa questo è platino quattro cioè per queste cose ti devi scoppiare l'obiettivo e il cervello la devi prendere sul personale king cioè questa roba è proprio fuori tu hai killato il tuo planer il tuo genre sta farmando il Krags tu sei con karma a ballare una carina sul river senza però mettere la faccia dentro per poi di essere uccisi da Grace e chi altro c'era Morgana o Vayne bro ma che esserlo cioè qui siete più forti si 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 e vi siete comportando da deboli guess what quando sono più forti loro vi spaccano la testa questo è proprio king su ste robe ci perdi game eh ma quelli veri questi hanno preso il messaggio di miden è quasi un bait per loro guarda qua quanto tempo perdiamo stiamo avvitando miden e stiamo facendo light è vero che è uno spike però cazzo ultare qui era meglio comunque qua è una buona ultimate però pausa muore Yasuo e perché muore Yasuo perché Yasuo è ingaggiato troppo presto e uno dice questa è colpa sua sì ma se ci fossero stati un po' prima sull'azione magari prendevamo visione con il team non capavamo per la ulti di Yasuo questa è molta più colpa di Yasuo che colpa tua però sto cercando sempre di metterti nel mood sì 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 ma da qui sei un altro player te lo assicuro cioè rispetto a Lightning Face hai giocato molto peggio cioè in Lightning Face eri ineccepibile qui invece non riesci a capire cosa fanno i tuoi compagni di squadra e ad adattarti di conseguenza ma perché ti devi adattare i tuoi compagni di squadra se puoi essere tu il leader e dire oh famo questo famo sto Herald ingaggiamo qui i mid lane che ci sono prima io mentre questi qua si prendono il Baron fanno call con Yasuo bot lane e Yasuo non gli viene nemmeno il dubbio che deve essere là questo è lo basso purtroppo perché queste persone di Macro non ci capiscono la mazza mentre tu di Macro ci capisci un sacco di cose hai visto un sacco di competitivo è solo che quando sei in game è più difficile pausa ho sbagliato io allora sì hai sbagliato tu non è banale perché tu vieni baitato perché questi qua sono messi malissimo quindi la ulti là è proprio chiamata ma al tempo stesso c'è Morgana che ti stoppa non è banale però secondo me ci sarà comunque l'ultimo potevi probabilmente esitare un po' di più pausa per favore perché potevi esitare un po' di più perché almeno potevo aspettare che Yasuo arrivasse così che era questo non ci avevo nemmeno pensato giusto e poi cos'altro in generale potevamo magari baitare la Lady Morgana prima no ce n'è una ancora più importante la più semplice King quando si ingaggia quando ci sono tutti e quando c'è qualcuno fuori posizione o quando si è obbligati tu eri obbligato a ingaggiare qua tu dici sì perché il Baron non era bastante bravo almeno altri 3000 gold ma te ne dico un altro King ma questi cosa stanno flippando il Baron con Nunu e dai flippiamo vediamo chi vince capito tu lì devi essere non con la fretta tu sei letteralmente li hai messi su una pentola con l'acqua e hai messo il fuoco al massimo a 9 e stai aspettando che loro arrivino ad ebollizione a 100 gradi butti la pasta la ulti di Horn finito andato il game si 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 vinci il fight rubi il Baron e ti dono gli e fai ace e flammano solamente hai avuto fretta per paura che facessero il Baron e dai fatelo comunque il fight non va malissimo cioè ma sto game era vincibilissimo bro si si a voglia e invece sembrava incarriabile perché 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 ognuno faceva il cazzo che gli pareva non avere paura di perdere anche perché non ce n'è motivo hai sia la skill che la knowledge però la knowledge la devi utilizzare commentare è più facile che giocare perché quando commenti non sei nella melma uscire fuori dal caos e trovare l'ordine nel caos è difficile ma se tu c'è Yasuo e tu sei Horn e Yasuo Split Pusha Yasuo come mid non mi fa reggere il cazzo e lo dici senza flammarlo però lo dici in maniera decisa se tu fai questo succede questo vinciamo se muore Vayne vinciamo se muore Vex bravo comunque l'apo guarda che pensavo che fossi messo molto peggio tu puoi tranquillamente fare il Master 500 LP eh facile ma ti giuro facile con Horn facile con gli altri non lo so perché poi cambi il videogioco dai e allora proviamoci uno alla volta eh perché se poi tu cambia l'improvviso il tuo gameplay ti esplode il cervello non è facile passare da zero a mille fanne una o due a game fai due call importanti al drago o al baron decidi la tempistica in maniera precisa e vedrai che succede grazie mille dai a te un bacio buona giornata King buon viaggio domani eh grazie grazie ciao bello ciao 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 Grazie per la visione!